32 anni di attività, quasi 300 soci, Unitres Ondrio non vuole fermarsi a meno che non saranno cause di forza maggiore a imporcelo, spiega la presidente Maria Luisa Arista nel presentare l'avvio del nuovo anno accademico che riprende il filo interrotto il 21 febbraio. Da lì si ripartirà, tutti i docenti già contattati per l'anno scorso hanno confermato la disponibilità a tenere le loro lezioni. È assolutamente importante ripartire per la nostra associazione che ha svolto un servizio sempre notevole in favore della terza età e sempre c'è stato detto che quando chiudevamo d'estate si sentiva la mancanza, ancora adesso i soci nonostante i timori ci dicono speriamo di ripartire perché noi sentiamo la mancanza di Unitre. I punti fermi del primo trimestre 2020-2021 sono la prima conferenza il 16 ottobre, la prolusione di inaugurazione dell'anno il 30 ottobre, in partenza i corsi di ginnastica e il laboratorio di canto corale, in calendario storia dell'arte da definire inglese e informatica. I primi due incontri sono con il professor Guglielmo Scaramellini sul Sacro Macello a metà ottobre e il successivo la prolusione con Raffaello a cura della professoressa Balsarini. Poi andremo a visitare, anzi tra le due lezioni faremo la visita al castello Masegra guidati dal personale del museo. Da definire eventuali trasferte per assistere a spettacoli lirici o teatrali fuori provincia, mentre si pensa a visite culturali a Chievenna, Ponte in Valtellina e Bormio. Le difficoltà in cui noi come altre associazioni ci dibattiamo, dice Arista, sono tante non solo organizzative legate al rispetto delle misure anti-covid, ma anche di natura economica, ma la voglia di partecipazione dei nostri soci ci dà la spinta. Direi che forse c'è anche un diritto alla socialità, soprattutto per queste fasce di età che sono più facili a trovarsi nell'emarginazione. Quindi riteniamo che questo servizio sia assolutamente importante e quindi da riattivare naturalmente con le modalità richieste.